lo zodi 105 presenta treste di casting un nuovo estremo reality show vuole valorizzare gli scambi fra culture diverse del pianeta le partecipanti dovranno accettare di vivere per tre mesi con alcuni schimesi alle vittime sarà chiesto di vivere in un igloo e aderire agli usi e costumi degli inuit e accettare le proposte dei capi tribù è una mia sensazione c'è stata una fuga di uranio negli ultimi giorni a milano perché vi vi piacciono i reality show questo invece un format americano si chiama arti cool ed è interamente girato al polo nord ti sembra una cosa carina una cosa che potrebbe interessarvi non lo faresti no mai facciamo così intanto facciamo entrare borge la borge è un ragazzo eschimese non parla all'italiano lui è il nostro consulente per quanto riguarda la cultura eschimese calcola che questi non fanno mai sesso perché non ci sono donne schimesi allora adesso lo facciamo entrare dovrà scegliere tra una delle due mamma mia che scarpone ha già scelto qualcuno di voi vuole dargli un bacino col naso col naso prego per cura non gay non gay non gay no 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 borge lei piuttosto di fare questa roba adesso fai uscire la bruna e dici allora facciamo uno per volta così la bruna la pigliamo magari lo usiamo come complice visto che lei è un po' più predisposta adesso ti diamo cinque minuti per pensare intanto andiamo avanti con lei ti diamo cinque minuti per pensare non è che ti eliminiamo ok alla mettere in piedi nella conca lei tu hai voglia di mettere i piedi nella conca vuoi sederti sui pesci te la senti allora lei abbiamo capito che fondamentalmente è molto astuta e non si è fatta fregare quindi potrebbe essere molto interessante da utilizzare come complice ti va? è il mutante si è messo il mutante si è messo il mutante si è messo il mutante sul ghiaccio ok come ti senti? si sai come quando fai i trattamenti i massaggi di fingere di pettinarsi con un pesce vedi cosa sta facendo? cosa stai facendo? ti senti a tuo agio? no gay no fagli fare intanto la prova di parlare con il ghiaccio se puoi metterti un cubetto di ghiaccio in bocca e parlare con noi poi ti spiego un altro modo per comunicare freddo? no mi vedo la risa figurati allora è il costume più strano che faccio i migliori cosa ha detto? sei la numero uno mi piace molto sta ragazza questo è fantastico ok adesso lei ti dirà che vuole partecipare quindi? mi farebbe comodo in effetti farlo mi sta rubando la scena prego prego tu sai che io prima non volevo dirtelo perché ho visto che ero un po' in imbarazzo sono contento che ha deciso di rientrare in gioco tu hai delle forme molto più eschimesi rispetto a lei lei ci sta rimanendo malissimo? come penso sia stato il gatto? lei una volta tolti i tacchi è un appariscente questo è quello che fa è un rituale per scegliere la moglie questo è un rituale per scegliere la moglie per gli eschimesi litigatevi il suo pesce ditevi qualcosa di sfida sei attenta perché posso farti male perché non so dove li prendi i pesci di solito ma prepara acqua allora siamo pronte? litigatevi il pesce eh? anima sta! litigatevi lo vai 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 litigale litiga non lasciaglielo no ma mi prendo quello sotto? eh no vabbè niente anche come complice sei un fallimese Borge sa sa adesso vi dirà una frase tipica in eschimesi Uè zia siete su Italia 1 eh?